12 e 18 del 10 marzo 2020, transito meridiano. Con un bel singh ballerino. Contatto con la meridiana 12 e 19 del 10 marzo 2020, transito meridiano. Con il centro della linea 19 e mezzo, con il bordo linea 19 e 25. Il lembo meridionale del sole è a 46 gradi dallo deserto esatto, il lembo settentrionale 32 minuti d'arco più in alto. Arrivando al transito meridiano che grazie ai fogli simmetrici si potrà valutare a occhio con una certa accuratezza. Ora 12, 20 e 27. Uscita dalla linea meridiana. 3 tempi. 12, 21. 28. 31. 33. 31. 48. 36 e mezzo e 43. Va a toccare l'estremo limbo del bianco, alle 12, 22 e 50. Non ho voglia di mettere a fuoco l'orologio oggi. 30 secondi in questo momento.